In tedesco per tradurre i verbi spostare e muovere possiamo usare i verbi rücken e bewegen, anche se bewegen è più indicato per tradurre il verbo muovere. Se vogliamo spostare un oggetto in una stanza, ad esempio, usiamo il verbo rücken, mentre se vogliamo spostare qualcosa senza avere un'indicazione di luogo possiamo usare pure il verbo verruücken. In questo video vi coniugherò solo il verbo rücken. Presente, presence, io sposto, ich rücke, tu sposti, du rücks, lui sposta, er rückt, noi spostiamo, wir rücken, voi spostate, ihr rückt. Loro spostano, sie rücken. L'imperfetto e il passato remoto vengono tradotti dal preteritum. Io spostavo, ich rückte. Tu spostavo, du rücktest. Lui spostava, er rückt. Noi spostavamo, wir rücken. Voi spostavate, ihr rücktet. Loro spostavano, sie rückten. Il participio passato del verbo spostare. Spostato, gerückt. Spostato, gerückt. Io ho spostato, ich bin gerückt. Tu hai spostato, du bist gerückt. Lui ha spostato, er ist gerückt. Noi abbiamo spostato, wir sind gerückt. Voi avete spostato, ihr seid gerückt. Loro hanno spostato, sie sind gerückt. Futuro semplice, futuro eins. Io spostero, ich werde rücken. Tu sposterai, du wirst rücken. Lui spostera, er wird rücken. Noi sposteremo, wir werden rücken. Voi sposterete, ihr wettet rücken. Loro sposteranno, sie werden rücken. Futuro anteriore, futuro zwei. Io avrò spostato, ich werde gerückt sein. Tu avrò spostato, du wirst gerückt sein. Lui avrò spostato, er wird gerückt sein. Noi avrò spostato, wir werden gerückt sein. Voi avrò spostato, ihr wettet gerückt sein. Loro avrò spostato, sie werden gerückt sein. Il condizionale presente, il congiuntivo imperfetto, vengono tradotti dal preteritum del coniuntiv zwei. Io sposterei, ich rückt. Tu sposteresti, du rücktest. Lui sposterebbe, erückt. Noi sposteremo, wir rücktern. Voi spostereste, ihr rücktat. Loro sposterebbero, sie rücktern. Imperativo presente. Sposta, sposta tu, rückt. Spostiamo noi, rücken wir. Spostate voi, rückt ihr. Spostino loro, rücken zi.